buongiorno a tutti oggi parleremo di impianti hvc e sistemi di controllo sta simulazione virtuale per la valutazione e il collado di scenari operativi in questo webinar parleremo di due aspetti da un lato appunto gli impianti hvc attraverso i moderni sistemi di virtualizzazione impianto e come collegarci dei sistemi di controllo che possono andare dai quelli più semplici a quelli più complessi l'idea di collegare diciamo di virtualizzare degli impianti con un sistema di controllo ha un duplice obiettivo da un lato è quello di poter simulare degli scenari complessi di gestione impianto che possono appunto essere simulati su un impianto virtuale utilizzando il sistema di controllo però che è già stato magari testato e sviluppato per altri impianti reali e vedere quali sono le prestazioni soprattutto anche in in relazione a dei calcoli molto molto lunghi che possono riguardare anche come possiamo immaginare un epicentamento energetico di tutto un impianto che lavora 24 ore su 24 per tutto per tutto un anno e questo tipo di analisi può essere fatto simulando il tutto in un ambiente virtuale il sistema di controllo che cosa deve gestire variabili come le portate pressioni temperature e umidità relativa che si possono che devono appunto soddisfare determinati requisiti chiaramente portate pressioni e temperature stiamo parlando chiaramente sia della parte aria del dell'impianto che quella poi che deve avere determinati requisiti sia poi delle magari portate pressioni relativi a determinati macchinari o circuiti secondari di raffreddamento di riscaldamento come vedremo quelli ad esempio pensati per il diomidificatore o i componenti di come l'iter quindi ci sono due ingredienti da analizzare da un lato l'aspetto di virtualizzazione dell'impianto dall'altro la connessione o l'implementazione di sistemi di controllo come si può virtualizzare un impianto diciamo da un impianto reale si ha lo schema P&ID e ci sono degli strumenti di fluidodinamica dedicati alla virtualizzazione di ciascun componente dell'impianto a partire dal diciamo dalla presa aria esterna al il componente che fa il ventilatore il componente che fanno tutte le griglie regolazione delle valvole ai componenti che fanno i filtri o i louvers quindi si può generare in una logica a componenti utilizzando ad esempio uno strumento quale quale che è uno dei software dedicati e hanno un approccio proprio di simulazione fluidodinamica a componenti quindi l'utilizzo delle diverse librerie per generare l'intero impianto andando passo passo da monte fino a valle permette di simulare completamente la distribuzione delle portate quindi creare completamente una copia virtuale dell'impianto in particolare per il mondo HVAC c'è un'impianto che ha già dei componenti dedicati a questo mondo in particolare sono i damper tutti condotti diciamo con dimensione rettangolare e le cross junction e tutte le ingressi uscite quindi le prese aria e le espulsioni per gestire tutta la parte appunto di movimentazione aria e poi sicuramente la parte di ventilatori dove si possono assegnare tutte le curve di prestazione quindi ventilatori sia a numeri di giri costanti che a numeri di giri variabili quindi inserendo una o più curve di prevalenza quindi la virtualizzazione dell'impianto passo passo con ciascun componente però gestita in una maniera diciamo snella quindi non attraverso un CAD ma attraverso diciamo una logica componenti dove si inseriscono le informazioni geometriche dall'altro l'aspetto del controllo adesso in questo webinar vedremo un controllo semplice fatto con dei controlli repeat potete immaginare anche dei controlli più complessi che eventualmente possono essere come dicevo all'inizio legati a questo modello virtuale magari dei controllori che sono già stati sviluppati in un mondo PLC e possono essere collegati direttamente al modello virtuale prima di essere diciamo rilasciati e comunque resi operativi per l'impianto reale in questo esempio c'è un controllore PID che giusto per richiamare è il controllore proporzionale integrale derivativo quindi prende un segnale che in questo caso è un segnale di portata che è la variabile da controllare magari può essere la portata circolante in un determinato punto dell'impianto e c'è un attuatore che prende il segnale lo manipola attraverso i tre coefficienti del PID quello proporzionale integrale e derivativo e va a dare un segnale all'attuatore quindi in questo caso può ad esempio andare a controllare la velocità di rotazione del ventilatore o nel caso del raffreddamento può essere di una pompa del circuito secondario e va quindi a modificare la portata circolante ecco scendiamo ora più nel dettaglio con anche un esempio diciamo più tipico industriale di un impianto HVAC allora nel sistema HVAC ci sono incontri tipici allora sicuramente i ventilatori tutti i condotti come dicevamo prima a sezione rettangolare i filtri, i luvers o i dampe quindi tutto l'aspetto di griglie diciamo per prevenire diciamo il comunque ridurre gli aspetti di sollevamento polveri la parte di umidificazione con gli evaporator coils quindi tutta una parte di circuito secondario e poi l'iter e il compressore e il condenser coil quindi abbiamo diciamo questi sono i componenti tipici di un impianto quindi sicuramente abbiamo la parte principale che è la movimentazione aria e poi tutti i circuiti secondari che devono trattare l'aria per diciamo farle raggiungere delle condizioni desiderate di innanzitutto riportata per gestire il ricambio d'aria di temperatura per mantenere un determinato comfort comunque dei determinati requisiti nella diciamo nella stanza in cui questo sistema di ventilazione va a fornire e poi di umidità senz'altro perché di pari passo si vuole anche mantenere determinati livelli di umidità per evitare spiacevoli fenomeni di condensa incontrollata aggiunto uno riguardo alle componenti di libreria come dicevo prima si possono utilizzare per la virtualizzazione dell'impianto ciascun componente è diciamo un pannello dove inseriscono banalmente le informazioni geometriche se è un DAT si metterà il perimetro e la lunghezza di ciascun di ciascun tratto se è una curva si metteranno là i diversi angoli con cui diciamo i due tratti si innestano tra di loro oppure si può avere una cross-gestion i damper anche qui sono gestiti attraverso una percentuale di aria d'apertura e anche con diverse tipologie di damper quindi con diverse tipologie di griglie che danno già luogo a determinati coefficienti di perdita quindi automaticamente diciamo la perdita di carico associata a ciascun driver viene automaticamente calcolata dal software e poi abbiamo il lato movimentazione di flusso con i ventilatori sia a numeri di giri costanti che variabili e poi abbiamo il lato scambiatore di calore questo viene utilizzato soprattutto per la parte appunto di umidificazione o di post riscaldamento con i scambiatori che possono essere di tipo plate finnet tube o shell in tube un impianto industriale dove abbiamo diverse prese aria con diverse pressioni importate associate quindi abbiamo diversi tratti da simulare fino a raggiungere questa parte con i damper e poi diciamo abbiamo tutto un sistema di distribuzione molto ramificato con diverse diciamo zone che devono essere servite poi c'è una parte centrale di trattamento aria a cui dedicheremo diciamo una parte di schema particolare quindi di un impianto industriale sicuramente c'è la parte complessa di diciamo ridescrivere l'impianto ma una volta creato il modello Flonex che è questo che vedete sovraimposto quindi ho per ciascuna parte diciamo tutti i tratti e i componenti relativi qui la parte di ventilazione e la parte di damper a questo punto poi ho tutto l'impianto sott'occhio e quindi posso calcolare la distribuzione al variare ad esempio la distribuzione di portate al variare delle aperture delle diverse saracinesche fare diversi scenari e controllare anche appunto che ci siano sufficienti ricambi d'aria in ciascuna diciamo zona che viene servita dal modello che quindi viene riprodotto attraverso questo modello virtuale ora ci concentriamo sul dimensionamento di alcuni componenti HVAC quindi abbiamo un diciamo attraverso simulazioni stazionari concentrandoci diciamo sulla zona dell'impianto che è dedicata diciamo a valle del ventilatore c'è diciamo dopo le prese d'aria che vengono riassunte da questa external condition abbiamo due componenti che è il deumidificatore e l'iter che abbiamo e che rappresentano le due parti di controllo relative alla parte di trattamento aria quindi col deumidificatore che è da dimensionare possiamo andare a vedere cosa succede a livello di scambio termico sull'aria e poi con la parte di iter fornendo di nuovo calore possiamo ricalcolarci le nuove condizioni quindi qui le due variabili più importanti sono temperatura e umidità relativa mentre lato piping possiamo invece fare un dimensionamento relativo alle velocità medie quindi possiamo trovare le dimensioni coerenti diciamo con le prevalenze generali del circuito e con le taglie del ventilatore in modo tale che la portata circolante sia tale per cui si mantengano delle velocità intorno a 0,5 e 0,7 fino al massimo di un metro al secondo in modo tale anche da evitare spiacevoli diciamo fenomeni di rumore con portate eccessive però allo stesso tempo diciamo utilizzare il valore di portata per valutare il numero di ricambi d'aria nelle zone che vengono servite quindi in riassumento abbiamo l'aria viene presa dall'esterno viene poi spinta dal ventilatore diciamo di cui possiamo fare del sizing sia a livello di piping che a livello di curve di prevalenza per scegliere il ventilatore più adeguato a sopperire diciamo tutte le periodi di carico e poi abbiamo la parte di trattamento aria con il deumidificatore e l'iter quindi il deumidificatore quindi deve togliermi l'umidità in eccesso quindi in genere diciamo si porta in saturazione l'aria e poi estrae estrae la quantità d'acqua con la condensa insomma condensando l'acqua e poi abbiamo il post riscaldamento come vedete attraverso la virtualizzazione dell'impianto possiamo visualizzare lungo la linea diciamo da monte a valle quello che succede alla temperatura era l'umidità relativa quindi con l'effetto del deumidificatore aumentiamo l'umidità che partiva da un 80% quindi qui partiamo da 32 gradi 80% di umidità l'umidità va al 100% dopo il deumidificatore e con l'iter diciamo torna ad un 34% quindi arrivando al 100% in questa fase posso anche calcolare quanta acqua viene prelevata in queste condizioni e così la temperatura va da 32 poi a passo ho la parte di umidificatore quindi ho una potenza di raffreddante in questo caso di 25 kilowatt vado a 4 gradi e quindi in condizioni di saturazione per poi tornare alla temperatura di 20 gradi a valle dell'inter quindi combinando diverse potenze posso controllare quindi fare un dimensionamento delle potenze necessarie che mi servono a sopperire le diverse condizioni questo lo vedo in in questo caso posso fare diversi scenari operativi per esempio posso verificare le condizioni più critiche ad esempio ingresso d'aria dall'esterno quindi inverno secco allora abbiamo condizioni di temperatura esterna ad esempio 10 gradi 30% di umidità posso verificare diciamo le minime condizioni diciamo di potenza del deumidificatore per portare diciamo l'umidità al 100% e poi diciamo posto di scaldare quindi verifico il range di potenze in questo caso lato deumidificatore lato iter per capire dove mi sto a livelli di taglia se vogliamo che mi dà in prima battuta quindi dei consumi tipici in determinate condizioni operative quindi qui poi paddo da 10 gradi 30% poi riporto la stanza ad esempio in questo caso a 5 gradi 41% quindi chiaramente qui poi l'iter va aumentato di potenza per riscaldare e portare in condizione ambiente poi ho ad esempio un altro caso spring wet condition dove abbiamo in questo caso un ingresso aria una temperatura di 20 gradi e 90% di umidità e vado invece anche qui a fare un diverso range quindi riporto per più di 5 kilowatt vado a 34 gradi e 15% di umidità quindi posso giocare con questi numeri per capire i range e le taglie del deumidificatore dell'iter viaggiando sul diagramma psicomodico quindi praticamente in un secondo ho i nuovi risultati che mi descrivono le variazioni tra monte e valle poi posso utilizzare questa informazione di sizing per fare un'analisi più di dettaglio posso collegare diciamo comunque studiare la parte non solo di ventilazione ma collegarci un circuito di dettaglio quindi sul dettaglio del deumidificatore la parte di ventilazione viene collegata allo scambiatore alla parte vera e propria del raffreddamento col circuito frigorifero quindi in questo caso con un R22 o con un propano posso andare a studiare il circuito frigorifero vero e proprio sempre con lo stesso strumento di virtualizzazione anche qui con una logica componenti mettendo la parte di batteria lettata la parte di evaporatore e la parte di compressore quindi posso studiare compressore batteria lettata valvola di espansione quindi l'intero ciclo frigorifero anche qui andandolo a studiare sul diagramma sul diagramma di stato ecco vediamo ora la parte un po' più diciamo interessante che abbiamo definito alcune taglie ma ad esempio voglio fare una simulazione che duri magari un intero anno di funzionamento un intero mese di funzionamento per capire in determinate condizioni come variano le potenze del deumidificatore e dell'iter allora posso diciamo agganciare una logica di sistema di controllo al lato deumidificatore al lato iter che questi due possono essere controllati ad esempio possono avere dei circuiti come vedevamo prima di di raffreddamento oppure possono essere come l'iter delle resistenze elettriche oppure possono avere dei circuiti nuovamente di trasporto con acqua calda per possere riscaldare dove ci sono dei nuovi scambiatori per possere riscaldare l'aria quindi possono questo per dire che la potenza chiaramente impiegata e quindi il consumo di corrente elettrica sia lato di un circuito variabile nel tempo e può essere ottimizzato utilizzando dei sistemi di controllo opportuni in questo caso faremo un esempio con due PID che vanno a leggere le condizioni diciamo del room monitor point quindi a valle dell'iter quindi le condizioni da controllare abbiamo due variabili da controllare la temperatura e l'umidità e per ciascuna di esse andremo per l'umidità e per la temperatura ad agire sulla potenza di riscaldamento dell'iter quindi vedete qui riassunti i due aspetti di controllo dove le variabili monitorate sono temperatura e umidità e sia due attuatori sono la potenza refrigerante e riscaldante quindi si può fare una simulazione molto più lunga come dico prima che dura può fare l'equivalente di un mese di diciamo di condizioni esterne magari prendendo dei dati dalle diciamo dati tipici di una determinata zona dove l'impianto va ad operare e si può vedere l'effetto di un sistema di controllo che vuole mantenere una temperatura ad esempio di 20 gradi 23 gradi 80% di umidità andando a vedere come si comportano le potenze dove ci si va a posizionare in un grado di tempo quindi si possono fare anche diversi scenari giorno-notte immaginiamo un impianto che debba funzionare 24 ore su 24 e vedere eventuali disturbi quindi se nell'impianto ci sono delle aperture quindi cambiano la temperatura interna quindi l'apertura di una finestra supponiamo che sia una stanza da controllare entra dell'aria a temperatura esterna diversa come agisce il sistema di controllo e in quanto tempo diciamo a riposizionare il sistema nelle condizioni di regime questo lo vediamo bene con un bel filmato in questo caso quindi parto da terminate condizioni quindi sul diagramma psicometrico vado col sistema di controllo quindi partivo da terminate condizioni 34-50% vado a controllare fino a raggiungere 23 gradi e 80% di umidità con una determinata potenza poi come vedete adesso c'è stato una rapida cambio di temperatura quindi arriva dell'aria a diverse condizioni esterne e il sistema di controllo agisce di conseguenza portandosi nella nuova potenza questo scenario come vedete posso simularlo molto rapidamente con una una logica a componenti quindi posso raggiungere le nuove condizioni in maniera molto molto semplice sempre analizzarlo col diagramma psicometrico sia nel tempo che stazionario facendo dei grafici che poi chiaramente posso analizzare e posso analizzare e visualizzare attraverso dei grafici che poi posso esportare anche in Excel quindi questi due aspetti di virtualizzazione e controllo permettono di raccontare in maniera diciamo completa però allo stesso tempo rapida quello che succede in un impianto e quindi posso anche fare una serie di ipotesi di dimensionamento e verifica quindi questo può essere fatto per la fase di progettazione e design ma anche nella fase di verifica quando diciamo diversi impianti devono essere installati in condizioni diverse quindi anche con condizioni operative molto diverse sia può essere la variazione inverno-estate ma può essere anche una diversa variazione di località dove questi impianti vanno a essere posti trattando sia gli aspetti di temperatura che gli aspetti di umidità con i calcoli di classici di psicometria ma fatti con degli diciamo strumenti moderni sia nella fase di controllo stazionario che di quello transitorio quindi vi ringrazio per aver seguito questo webinar per una maggiore informazione potete contattarmi o scrivermi all'email che vedete in quest'ultima slide grazie e arrivederci al prossimo webinar grazie